Musica Appassionati d'opera, in visione e in ascolto, ben ritrovati. Ben ritrovati con Luca Rossi. All'intanto faccio grazie di aver trovato il tempo di esserci venuto a trovare Just Arrived da Roma. Luca Rossi chi è? Luca Rossi è lo sceneggiatore e colibrettista di questa produzione del Carlo Felice che è Miserie e Nobiltà. Già c'è sempre l'imbarazzo, normalmente si parla di opere dove gli autori e i librettisti sono passati, invece qui siamo vivi, siamo contemporanei, sia l'autore delle musiche che è Marco Tutino e sia, ricordiamo, oltre a Luca Rossi è lo sceneggiatore in realtà, colibrettista invece abbiamo anche un librettista che è Fabio Ceresa che poi incontreremo in un secondo momento. Allora, la prima domanda che sgorga spontanea e logica, il librettista sembra un mestiere d'antan, uno pensa illica, giacosa, temistocle, solera, come si trova uno scrittore contemporaneo nel ruolo di sceneggiatore di un'opera lirica e di librettista? Beh, è molto divertente per un semplice fatto che si cerca naturalmente, rispettando i vari linguaggi, di dare un montaggio, un ritmo all'opera che non è esattamente quello dell'opera, ma che assomiglia di più a quello del cinema, della televisione. Io scrivo molte sceneggiature per la televisione, in cui l'input fondamentale è non perdere il pubblico, cioè devi tenerlo agganciato. L'attenzione. Esatto. Quindi, per ovvi motivi professionali, ho portato anche questo nell'opera, sia nella Ciociara che in Miseria e Nobietà. Ricordiamo che sempre con Marco Tutino è di recente il debutto della Ciociara. E una delle regole fondamentali della sceneggiatura televisiva è che ogni scena deve proiettare nella successiva, altrimenti il pubblico scanala e se ne va. Più o meno abbiamo cercato di fare lo stesso anche nell'opera, che è una cosa abbastanza originale, abbastanza nuova. Anche perché il pubblico dell'opera non ha il telecomando, in realtà è costretto. È costretto a stare lì, però se è costretto e si diverte, noi siamo più contenti. E se c'è meglio scusete che sa noi. E soprattutto cercare di trovare, anche nei limiti appunto del melodramma, la possibilità di un po' di sorprese, un po' di piccoli colpi di scena, un po' di cambiamenti di passo, cosa che non è, diciamo, proprio canonica. E nella Ciociara siamo riusciti, secondo me, anche in Miseria e Nobietà. Miseria e Nobietà abbiamo dovuto fare un lavoro più a sottrarre, perché l'opera di Scarpetta, cioè la commedia di Scarpetta, ha una marea di personaggi e una marea di gag. È quasi solo, è una farsa, sono quasi solo gag. Marco mi chiese subito dall'inizio, per Miseria e Nobietà, di aumentare invece quello che è il valore melò della storia. Siamo nel melodramma, fra l'altro. Perché giustamente, per due ragioni. Uno, perché commuovere le persone a teatro è bello, è bello che il pubblico si commuova. Due, perché tanto più in un'opera buffa, se hai la possibilità di avere un momento invece anche di commozione, serio, più, come dire, più importante, poi è più, sottolinea ed è più divertente la parte divertente, diciamo. Certo, e proprio a questo proposito, in realtà nella Ciociara, forse la parte drammatica comunque sicuramente c'era. In tutti e due i casi è conosciuto, forse più che il romanzo, il film per il pubblico che viene, perché la Ciociara, che è un grandissimo romanzo, ma uno pensa sempre all'Oscar di Sofia Loren, no? Cominazione Sofia Loren anche nell'altro film, una giovanissima Sofia Loren anche in Miseria e Nobiltà, che è proprio la nascita, proprio commedia dell'arte totale in scarpetta, ma comunque anche il film del 54 è totò, quindi è un film, commedia dell'arte cinematografica anche lì nel pieno. Qui questa operazione, che nella Ciociara rimane comunque nel filo di qualche cosa, narra praticamente di questo viaggio nel dopoguerra, dello stupro, è più difficile perché si parte da uno spunto, tra virgolette, comico, per farlo diventare, attenzione poi, non drammatico, ma giustamente commovente. Potrebbe esserci il rischio insito nell'operazione che chi viene a teatro s'aspetti la farsa e trovi un'altra cosa, in realtà chi viene a teatro sa che vede un'altra cosa. Sì, però teniamo presente che comunque è un'opera buffa, quindi ci sono alcune gag fondamentali che rimangono e secondo me sono sottolineate molto bene dalla musica di Marco e quindi possono anche, adesso non vorrei lanciarmi troppo, però possono anche far ridere, che è strano l'opera. Un sorriso qua e là lo strappano, però poi c'è quella parte che si basa poi sugli elementi del testo di Scarpetta che erano già presenti, perché nel testo di Scarpetta c'è comunque una storia di un tradimento, c'è la storia di un bambino che vive col papà, la mamma è andata via, eccetera, eccetera. Qui l'abbiamo tirata molto su quella storia, in maniera che, adesso io non voglio dire, perché io poi sono un sentimentalone, quindi per dire alla prima, alla generale della Ciociara, io pianto avendo la scritta io, quindi. Ma in questi giorni, seguendo le prove in regia, io non ho ancora visto il palco, sono in sala di regia, ci sono due o tre punti in cui io mi sono commosso. No, ma posso dire, io invece ho visto le prove e confermo, effettivamente, cioè nella migliore tradizione dell'opera lirica, c'è una lettera, adesso non voglio fare spoiling, però c'è un momento di lettura di una lettera che è altamente commovente, come una musica fra l'altro, estremamente bella, ancorché orecchiabile, perché ecco, non dimentichiamo che comunque Marco Tutino è nella tradizione, lui non credo che ami il termine neuromanticismo, perché poi sono i critici di musica che debbono attaccare delle etichette, ma dopo, non prima. Diciamo che è una tradizione, però risuonano in orota, risuonano una serie di grandi musicisti italiani, poi noi siamo quello che ascoltiamo, oltre che quello che mangiamo, come diceva Feuerbach, quindi è normale che ci sia quello, è qualcosa di veramente commovente, questo l'ho notato anch'io. E questa è una delle ragioni anche per cui è per me piacevole lavorare con Marco e su questo genere di testi, perché io sono convinto da anni e anni, non a caso ho fatto lo scrittore, ho fatto lo sceneggiatore, sono convinto che il destino della nostra generazione è quello di cercare di unire al meglio delle nostre possibilità un linguaggio colto con un linguaggio popolare. Marco lo fa, a mio giudizio, molto bene con la musica, e il fatto di usare una sceneggiatura, quindi una tecnica tipicamente popolare, perché sia il cinema che la televisione si basano sulla sceneggiatura e cercano di comunicare al numero maggiore di persone, fa sì che questo progetto tutto sommato funzioni. Stiamo attenti però che non è una volgarizzazione basta, cioè non stiamo facendo il musical, stiamo facendo una roba seria, con una musica molto seria, molto orecchiabile, lei ha detto benissimo, che però nasconde una serie di, come dire, di raffinatezze che il pubblico colto può apprezzare. Nino Roto era tutt'altro, faceva musica orecchiabile, mi le mani era tutt'altro. Esatto, quindi siamo in quel solco lì. Che è uno sproveduto. E secondo me questo è interessante proprio dal punto di vista di uno che scrive la storia, perché quando scrivi la storia devi pensare che non la stai scrivendo per te, per i tuoi amici o per quattro critici, la stai scrivendo perché la gente paga un biglietto e ha voglia di goderselo e ha diritto di goersi. Non vengono per fracassarsi i carasisi, come direbbe Montalbano, vengono per star bene e noi cerchiamo di farli stare al meglio. Sicuramente. E fra l'altro, prima parlavamo di Cino, giustamente l'esperienza uno mette quella. A me è capitato qualche volta di parlare con registi cinematografici prestati all'opera, ma anche qui era venuto il povero Ettore Scola, era venuto in questo studio, Dario Argento. Cioè, il regista cinematografico si trova un po' spuntato, perché non può fare i primi piani, cioè ha a che fare con un piano americano perenne, che è una scena messa lì e che il linguaggio non è quello cinematografico, gli viene a perdere una serie di tecniche. Però qui ho proprio visto invece da quello che è sempre senza fare spoiling, per esempio la famosa scena degli spaghetti, che è il massimo della gag farsa in Scarpetta e in Totò anche, che qui invece viene frammentato con un bellissimo rallantì che va quasi... Diventa angosciante. Sì, ma diventa quasi... si va quasi a cristallizzare nel cenacolo di Leonardo addirittura. È una cosa veramente... che a me personalmente ha colpito la prima volta che l'ho vista. Perché è proprio un cambio di passo, un cambio di linguaggio totale. E' anche uno dei grandi talenti di Marco, secondo me, che come nella Ciociara noi al finale abbiamo un waltzer, che teoricamente è il waltzer della liberazione, in cui sono tutti felici e in realtà procura più angoscia, più tensione che felicità. Secondo me anche in quella scena, adesso io devo ancora vederla in palcoscenico, ma vista già in regia... Insomma, è la fame. Sì, sì, certo. Sì, loro teoricamente sono felici, perché finalmente hanno a mangiare, ma finalmente. Vuol dire che prima non ce l'avevano. Non abbiamo detto una cosa anche senza fare spoiling, però è stata cambiata l'ambientazione, è la farsa del 1887, mi pare. Il film è del 54, e qui andiamo proprio a riambientarla nel primo dopo guerra, nel 46, perché c'è proprio il referendum monarchia repubblica, diciamo. Sì, ma lì è stato un insieme di cose, perché all'inizio, quando abbiamo pensato, come la facciamo? La facciamo nell'Ottocento, la facciamo all'epoca di Totò, facciamo... Lì ci siamo chiesti, ma qual è stato un momento che in Italia recente c'era la fame? Il momento del dopoguerra, è proprio lì c'era davvero la fame, forse più che nell'Ottocento, o comunque nell'Ottocento rendemica, lì è proprio una fame a bomba. Era la fame comunque di qualcuno che aveva mangiato fino a tre anni prima, quindi estremamente drammatica. E quindi, allora, pensando al dopoguerra, abbiamo pensato un momento, ma lì c'è anche il referendum, il referendum, siccome il nostro protagonista, a quel punto, essendo, diciamo, nella parte miseria, essendo un povero, è naturalmente teso, diciamo, alla Repubblica, e dovendosi fingere nobile, e nobile naturalmente è per la monarchia, allora si creava immediatamente una contrapposizione che è nel titolo dell'opera, miseria e nobiltà, per cui era perfetto. Meglio di così. Non è stata un'ambientazione avanvera, cioè non è che abbiamo detto, ma facciamolo nuovo, allora cosa facciamo? No, la fame era quella, in quel momento nasce l'idea del referendum, il referendum è assolutamente funzionale al discorso, alla musica, a tutto quanto. E infatti il finale, anche un finale piuttosto amarognolo, con una citazione gattopardesca bellissima, secondo me, che chiude poi la... E anche una citazione di attualità, diciamo, dei tempi. E' estrema, c'è un accordo, sì, già, immediatamente chi ha le terre e chi ha il denaro fresco dalla borsa nera si mettono in... Esatto, e anche quello da, a mio giudizio, da un, come dire, un'attualizzazione dell'opera non pretestuosa, ma funzionale. E' un discorso, va proprio in partito. Sicuramente, sicuramente. Ma secondo me, rispetto alla ciocciara, miseria e nobiltà, diciamo che è ancora più compatto. Cioè, la macchina funziona perfetto. Il libretto di Fabio è perfetto. E' veramente, come dire, una macchinina che funziona in ogni punto e la storia è veramente molto compatta. Mentre nella ciocciara avevamo avuto magari qualche piccolo ondeggiamento. Qui va dritto per dritto, come si dice in televisione. In termini scenografici non c'è un metro di pellicola sprecata, si direbbe. Proprio funziona tutto all'inizio e alla fine. Sperando di aver fatto venire voglia di non aver detto troppo a tutti coloro che verranno, perché noi lo diciamo sempre, la prima sarà in diretta mondiale streaming gratuita sui vostri computer da questo studio. Ma esserci è un'altra cosa, perché la musica e le emozioni, cioè, in sala, le emozioni vanno e vengono, nel senso, la scena, tutto si vede e si ascolta meglio. Quindi chi non potesse va bene lo streaming, ma chi può venga assolutamente a vedere, da parte è talmente raro vedere una prima mondiale che insomma io non mi perderei l'occasione tanto più quando è qualcosa, fidatevi, io l'ho visto già, è qualcosa che veramente vale la pena. Grazie mille a loro di essere stato qui con noi e attendiamo con ansia la prima. Anch'io. Vediamo come va. Grazie. Grazie. Grazie.